Poi spostare i due picape insieme? Così due eh? Sì Vi faccio sentire tutti, via che ti so Fu pulito Allora, questa l'ho già fatta sentire la posizione al ponte Questa è la situazione intermedia, cioè con questi due picape che funzionano insieme Questa è la posizione centrale, c'è soltanto il picape singolo Questo è l'intermedio tra questi due Questo è il classico bluesman, il classico pick up al manico E effettivamente comprate Ok, poi intermedio tra questi due Centrale Centrale Questo qua, intermedio tra questi due Vedo lì, è particolarmente attento a queste picape Ti piace questo suono qua? Sì, non so che ti piace E poi infine l'ultimo, il fondo Ok Grazie 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 Grazie